Benvenuti in questo mio nuovo video su un gioco ambiguo Se vi ricordate un po' di tempo fa avevamo giocato appunto la copia di Among Us su telefono E oggi ho trovato la copia di Rocket Link Ormai sta diventando una serie il giocare giochi brutti su mobile Cioè io mo' guardando sta cosa non so che cosa sia in realtà Perché è leggermente come di un po' sbocchevole Un po' sbocchevole Però vi ricordo di lasciare un like se vi piacciono questi video Se volete continuiamo la serie di giochi strani su mobile Che la potremmo far diventare veramente una serie Dato questo raga io vorrei andare a farmi un game Perché ve lo giuro è la prima volta che vi ho il game Mai visto Vorrei farmi una partita e vedi un attimo com'è Eeeh Un game veloce Non so Raga sono ridicoli questi video game Fa troppo ride Fa troppo ride boys Fanno veramente troppo ride Cos'è qua? Chi so io qui bro? Ma che cos'è sta situa? Com'è finita la partita bro? Ma che me stai a dire? Next match Da farci il prossimo game Non sto capendo ragazzi Giuro non sto capendo Stato disco Gioco Ma bro non le pubblicità Un game me volevo fare Gesù santo Un game Ma non ho capito raga Ma che cos'è? Ma non mi interessa Posso farmi un game gentilmente? Uno solo? Un solo game si Un solo game Bro un game me vorrei fare Ok Ma Ma non si muove Ok Ok Eeeh No zi Posso saltare? Non posso saltare bro ma è ridicolo Ma non si capisce nulla Ma raga non si capisce niente È orribile Ma così salto Mio dio che salto zi Mio dio che salto sta roba Frena Bro non riesco a entrare la palla Ma come fa a fare ste robe Sto tipo? Questo qua è il turbo zi Ma zi Più al turbo bro Più al turbo Più al turbo frate No raga È sbocchevole Ve lo giuro è sbocchevole È sbocchevole ragazzi È veramente bruttissimo È ridicolo raga Mannaggia zi Ma qua che Ma qua la macchina Ma qua sta macchina zi No no Ce penso io Lo addobbo Lo addobbo Aia Aia Ma che c'ha un trattore Non ce credo zi Fate i seri ragazzi Fate i seri che dobbiamo vincerla qua La dobbiamo vincere Dobbiamo vincere Bro dovete fare i seri Ve lo dico Ok ok Full turbo Full turbo Segnate ragazzi Gesù santo Bro Bro E segna un attimo Aia Ma raga Fai un salto qua Zi e ti addobbi per 20 secondi Ma non ho capito Ma non ho capito ragazzi Ma non ho capito Non ho correttato palla A dirvi la verità Non ho correttato palla ragazzi È tipo quasi impossibile da giocare Bro devi fare il serio Ok Easy bro Ci penso io Ci penso io Più il turbo Non Sì non ho mappiato il turbo Non ho mappiato il turbo Sì Devo segnare Devo segnare bro Devo segnare bro Mortangurelli Regà La stavo La stavo Com'è pareggio bro Falla continuare Top giocatore E andiamo boys E andiamo Di nuovo la pubblicità Non c'è credo Aumento di livello Aumento di livello Livello 2 signori Livello 2 Ci può stare Si torna al menu Fa un altro game Che io almeno un gol Lo vorrei fare Se non vi dispiace Posso farlo un gol ragazzi O è troppo complicato Fa un gol Sì dai che mo Mo regà Ho piato la mano eh Mozzi ci ho piato la mano ragazzi Posso farle implode le macchine Pensate no No bro bro Levatevi dal pacco Gesù santo Se sono Se sono Dobbati Ragazzi no Ci hanno bucato Ha segnato Ha segnato 1 a 0 per loro Ma quel timer che non si ferma No boys No boys No boys Non ci credo Dai ragazzi Team fate i seri Team fate i seri Che dovreste carriarmi il game Dovete fare i seri Pia Pia sta palla Ci penso io No l'ho lisciata Ma è impossibile Ok 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 bro Ci sta? Mi piace? Zitto zitto che la chillo Zitto zitto che la chillo Top giocatore Nozzi non posso Prende i pali Ho piato il pali pure qua Pure qua regà Pure qua hitto i pali Non ci voglio credere Non ci voglio credere ragazzi E sgasa un attimo Voglio Ma il mio team Il mio team dove sta? Il mio team dove sta in tutto questo? Ma sto giocando da solo? Dai ragazzi Ma dove sta il mio team? Ma sono rimasto 3v1 Non ci credo Ma davvero? 3v1 sono rimasto? Mi impazzisco bro Ma non ci stanno regà Hanno quittato Il mio team mi ha abbandonato Sono stato abbandonato dal mio team regà Ah no 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 Eccoli eccoli Ma dove stanno questi? Ma ci stanno? Bro Io non ci voglio credere ragà Io non ci voglio credere Dai ragazzi Un gol Mannaggia oh Mannaggia oh Ma che è sta roba? Questo videogame ragà è ridicolo Questo gioco è ridicolo Ma perché la gente gioca questo gioco? Cioè non ho capito È veramente ridicolo Abbiamo perso Sì abbiamo perso Che scammata Basta le pubblicità ogni 2x3 No regà Non glielo reggo psicologicamente questi giochi Le fa più al mal di testa Ma che è sta situa? Ma ba Non scioppo nulla Cioè speriamo un'altra Ragazzi Una la devo vincere Una la devo vincere per forza Non me ne frega nulla Un game la devo vincere Aggressivo uomo E andiamo 1-0 fra 1-0 mi piace 1-0 mi piace bro 1-0 mi piace Sgaso fra Sgaso Sgaso Ho sgasato bro Più al rimbalzo Aia Bro me stai Ma che fa il mio compare bro Bro Mia 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 fra mia questa Ma chi l'ha 2-0 E andiamo signori E andiamo signori 2-0 qua 2-0 ragazzi Si portano i game Si portano i game a casa Si portano i game a casa boys E' impossibile Gli ultimi due secondi E signori Abbiamo vinto E si va a livello 3 ragazzi Abbiamo vinto boys Abbiamo vinto Ragazzuoli belli Questo video Può finire qua Vi ricordo di lasciare un like Se non l'avete ancora lasciato Di iscrivervi al canale Se non siete ancora iscritti E boys Noi ci beccamo In un prossimo video Bella campioni